Cambia il procedimento di firma con l'applet Java su Netflix. Da questo momento è possibile usare qualsiasi browser. Con la chiavetta per la firma digitale inserita, costruiamo un deposito, ma la procedura in realtà vale per qualsiasi fase di firma o di sincronizzazione. Intanto vediamo un esempio di una firma di un deposito. Costruiamo il deposito come facciamo sempre. E al momento della firma verrà scaricato un file che dovrà essere fatto partire. Facciamo partire il file e poco dopo ci verrà chiesto il PIN. Una volta inserito il PIN, ripremiamo sul deposito che abbiamo costruito e possiamo fare il nostro Crea Busta e Spedisci.